L'hotel Baia Imperiale, a soli 200 metri dalla spiaggia, domina la Baia di Cavoli, con una vista panoramica unica, che consente di ammirare l'isola di Monte Cristo, Pianosa e la Corsica. L'hotel offre a tutti i suoi ospiti bar con ampia terrazza panoramica, parco, parcheggio privato, campo da tennis, ping pong e mini club. Le camere, completamente ristrutturate, sono dotate di balcone o terrazza e dispongono di frigo bar, climatizzazione, tv satellitare a schermo piatto, connessione wireless a internet, telefono e servizi di colazione in camera su richiesta. Fiore all'occhiello del Baia Imperiale è il suo ristorante, dove, godendo di un panorama mozzafiato, potrete gustare l'ampia scelta dei nostri piatti tipici ed internazionali e sorseggiare i vini selezionati della nostra cantina. La nostra spiaggia privata, nella splendida Baia di Cavoli, è attrezzata con ombrelloni allettivi e offre la possibilità di noleggiare canore, pedalò e piccole imbarcazioni. Il vostro riposo sarà accompagnato unicamente dal leggero suono della risacca marina, in un ambiente lontano dai rumori e dal frasuono della quotidianità.